buonasera a tutti e benvenuti alla prima edizione del compleanno della martina questo tancio si svolge interamente dedicato a una ed un'unica persona martina governale la quale oggi giorno 20 giugno 2020 se non erro e se non leggo male compie i suoi primi 23 anni di vita ma che bella ma che bella questa martina bene qui il presentatore andrea cocchiarella buonasera illustrerà a voi telespettatori com'è lo svolgimento di questa giornata innanzitutto parto con farti i miei più grandi auguri martino e adesso bando alle ciance 20 giugno 2020 data pazzesca pazzesca cinque anni sei cinque anni perché primo anno non ho avuto a che fare con te cinque anni di compleanni duri durissimi veramente duri ardui però diciamo che la mia rottura di farti una sorpresa è anche un piacere perché dai vederti felice comunque sia la cosa più bella che possa fare chi è martina governale martina governale la mia ragazza martina governale è una dittatrice ma gli voglio bene lo stesso perché senza le tue piccole accortezze non avremo probabilmente coltivato l'orticello del nostro amore fino a questo punto il tuo non arrenderti mai il tuo voler sempre di più e voler suscitare stuzzicare nella coppia un qualcosa di migliore ci ha aiutato ad andare avanti giorno per giorno ma adesso non è il 6 agosto ma il 20 giugno quindi parliamo della martina la martina ragazza schizofrenica psicopatica matta brutta perché si vede brutta grassa perché si vede grassa ha un lavoro che mamma mia quanto cazzo la stressa però con i suoi mi sento brutta con i suoi non ce la faccio più con i suoi che palle la vita la mia vita fa schifo sei unica e ripetibile quindi non non potrei vivere diciamo una giornata senza una tua lamentela ti dico che sei bellissima nonostante non non tutti veda così che sei una amica meravigliosa secondo me una figlia meravigliosa con i tuoi pregi e i tuoi difetti ma ahimè i tuoi difetti li ho fatti diventare pregi dentro me ti dico che ti amo sì ma non lo diciamo un giro è che mi vergogno bene che farei di tutto pur di renderti felice e adesso mettiti seduta premiti un pacchetto di coke corn una coca light anti zero e goditi lo spettacolo ciao amore mio e ancora auguri ciao martì ciao martì ciao martì per me sei un'amica sei una rompipalle un'amica simpatica insistente tanto tanto insistente e buona c'è un bel culo e le grandi sette sei un po' permalosa comina estremamente puntuale paranoica sei quell'amica che aspetta un attimo ananas non succa la pera cos'è la martì una amica perfetta sincera e sei l'unica che mi può fare da zainetto d'estate con 50 gradi quando si dorme però sei un'amica vera e sincera sei un'amica speciale e reale come sei sei che sei latina ciao martina buongiorno volevo farti gli auguri di un buon compleanno da parte del tuo babbone preferito perché io sono il tuo babbone preferito vero aspetta un attimo che c'è anche orma che te li vuole fare gli auguri anche pongo te li vuole fare auguri amore tanti tanti auguri sei stato e sarai sempre il mio più grande capolavoro e ricordati che se tu sei felice io sono felice ciao testa di cinocchio ciao 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 tanti auguri vingardium leviosa vingardium leviosa augurorum martina sto guardando questo calendario del mese di giugno perché so che c'è una data particolare ma mi ricordi più cosa l'è egidio dammi una mano non mi ricordo più questa data particolare del mese di giugno marina fai a porta ma sai che il 20 di giugno è il compleanno della martina allora siamo qui ciao mattina ciao mattina fai il ventricolo e qui siamo siamo tutti riuniti e perché siamo tutti una famiglia e infatti ti lasciamo le foto pensieri e vogliamo augurarti anche tu è buon compleanno o no sì 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 giusto è giusto giusto per il 22 giugno è giusto no è bagliato comunque va bene sempre un buon compleanno augurissimi martina che sia tutto un futuro sereno e sempre con il supporto dei tuoi genitori degli amici nel finanziato soprattutto del fidanzato dai poi di vecchietti li lasciali perdere avrei anche il nostro supporto ti vogliamo bene ciao mattina anche anche la mammetta buon compleanno anche lei va che l'asciura lì ciao ciao basi ciao ciao a martina tanti auguri di buon compleanno un bacione buon compleanno ma chi è che è il socio lo meglio del mondo te martina che è il culo che hai tanti auguri tanti auguri marti da la seconda mamma mi raccomando eh torna presto auguri 23enne e anche cucina acquisita mi sembra anche l'unica perché sa che dopo di te non ce n'è altre tanti auguri marti tanti auguri tanti auguri finalmente il giorno tanto atteso dell'anno un bacione speriamo di poterci vedere presto e di festeggiare insieme bacione bacione buon compleanno marti tanti auguri amica mia tantissimi auguri un abbraccio un bacio grande tanti auguri marti pure la mia cognata anzi cognatina preferita ti voglio bene ciao ciao marti ciao marti tanti tanti auguri ma tanti ma tanti cioè questa è la ventesima volta che facciamo il video e quindi gli auguri sono davvero tanti sono tantissimi e niente ti vogliamo bene e speriamo che passerai una bellissima giornata e aspetta le nostre importanti queste sono le piccolezze non so dove tu sarai quando guarderai il video ma ti venga sporca da bere tu scappi ok in due perché noi siamo coppia quindi vale doppio un bacio ciao ciao marti tanti auguri da pinolo mi sento in colpa ciao marti ti volevo fare tanti auguri di compleanno per questi 22 23 21 comunque tanti auguri è un bel 19 giugno 2020 tanti auguri dimenticavo che c'è una persona che ti può fare gli auguri auguri amica auguri amica ciao marti auguri allora marti è arrivato il tuo giorno preferito dell'anno ovvero il tuo compleanno anche se non ti ricordi da niente perché sarà ubriaca stronca ormai sono abituati allora noi ti facciamo tantissimi auguri niente tanti auguri marti ti vogliamo bene ciao marti un salutone ti voglio fare tanti auguri e augurarti il meglio mi raccomando mi raccomando mi raccomando mi raccomando mantieni così che anche se tu invecchi tu sei sempre la numero uno un abbraccione ciao tanti auguri marti auguri di buon compleanno dalguaro ciao ciao stami bene ciao martina ho saputo che il tuo compleanno tanti auguri e ancora grazie per avermi letteralmente salvato il culo ciao marti un bacio auguri ciao amore ciao cuciolina ma qualcuno ci ha detto che è il tuo compleanno un uccellino oh mio dio tanti auguri un compleanno ciao ti ho portato un poco happy birthday sto con lei e cerco la mia martillo oh my god quanti soldi oh my god quanti soldi gioca tipa che balla il reggaeton sono gatti i bordi vai fuma sei cotto oh martin pio tu auguri buon compleanno ciao ehi tanti auguri tanti auguri tanti auguri tanti auguri tanti auguri tanti auguri di buon compleanno un bacio tanti auguri tanti auguri tanti auguri tanti auguri ciao martin ti faccio tanti auguri di buon compleanno siamo qua negli spogliatoi Luigi invece è della parte opposta dell'azienda mi faccio tanti auguri mi saluto grazie ciao buon compleanno tantissimi auguri marti tanti 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 auguri ci vediamo prestissimo ti aspetto un bacione auguri martiglione tanti auguri mattina auguroni eh mattina dallo zia e la zia ciao un bacione auguroni ancora un bacione tanti auguri tanti auguri Martina un bacione tanti auguri un bacione azいた 2 aguita tanti auguri martina aguri tantissimi Tanti auguri, un bacione grosso e un abbraccio. Ciao Marti, buon compleanno! Auguri Martina! Ciao Martina, buon compleanno! Alla miglior vicina del mondo, tantissimi auguri! Ciao Marti! Ciao! Auguri Marti, ti regalo 250 grammi di carboidrati, così, da utilizzare quando vuoi, senza nessuna dipercussione. Auguri Marti! E va bene dai, visto che il tuo compleanno te la sei meritata. Auguri Marti! Auguri Marti! Giovanni, che cazzefaccia fai? Hola Miranditta! So il pedrito, si ricorda di me? Un esignolo mi ha detto che a oggi è il tuo compleanno, se dice così, compleanno dall'italiano. E per le vecchie emozioni che abbiamo passato insieme ti voglio augurare molto bene, per questo Dio molto importante, perché tu eres una persona magnifica, una persona molto linda. E io, Pedro, ti chiedo molto e ti mando pure un grosso besito. Con la milanità. Ciao Marti! Ciao Martina e ciao a tutti, allora per il prossimo allenamento... Dobbiamo presto! Dobbiamo presto! Ah no! Ah no! No, no! Aspetta! Marti! Auguri! 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 Con tutto il cuore! Auguri! Ciao Marti! Ciao Martina, ti volevo fare tanti auguri anche io, ciao ciao! Ricordati che il mio è il 22 però eh, auguri ancora! E là, ciao Marti, sono il monopattino di Andy, sei salita sotto di me qualche volta, ti ricordi? Comunque, ci tenevo anch'io a farti tanti auguri e mandarti un grosso brum brum! Ciao ciao! Auguri Marti! Happy birthday! Martina, tanti, tanti, tanti e poi tanti auguri! Buon comprenno Martina! Tanti auguri! Tanti auguri! Eccoci tornati alla fine del primo tempo. Come le è sembrato questo inizio, questo diciamo entré, questo entré carino, simpatico, vero? Quante persone ti hanno voluto omaggiare in questo giorno, però io ti ho sempre detto comunque sia che tutti ti vogliano bene, cioè che ti hai sempre paura e la paranoia che le persone non ti vogliono bene, che te non sei accettata, ma io ti voglio dimostrare che non solo le persone che conosci, i tuoi amici, i parenti, i conoscenti ti vogliono bene e comunque ti accettano come dici te, ma tutto il mondo, tutte le persone che ho potuto trovare, agire e conoscenti, amicizie, non amicizie, anche loro, nel loro piccolo ci tengono a farti sapere e augurarti una felice giornata. quindi rimani lì comodo, fermo e continuo ad assistere a questo show. Auguri ancora. Tanti auguri Martina, buon compleanno! Martina, buon compleanno! Auguri Martina! Tanti auguri Marti! Auguri! Andrea! Andrea! Buon compleanno! Buon compleanno! Buon compleanno! Da zio Franco e zia Giussi, io purtroppo non mi posso vedere, ciao! Auguri Martina! Ciao Martina, tanti auguri di buon compleanno da Ebbe, da Maurizio e tutta la famiglia, anche Anakin, tanti auguroni e speriamo di vederci presto, ciao ciao, ancora tanti auguri! Auguri Martina! Moltissimi auguri di buon compleanno! tanti auguri Martina, tanti auguri Martina buon compleanno, auguri Martina, tantissimi auguri buon compleanno di cuore da furottoli con furore, ciao buon compleanno, tanti auguri Martina, tanti auguri Martina, tanti auguri Martina buon compleanno, allora Martina non vediamo l'ora di farti gli auguri di buon compleanno, tanti auguri Martina, buon compleanno, tanti auguri, tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri Martina, tanti auguri a te, auguri auwuri, ciao! ciao ciao auguri Martina buon compleanno buon compleanno, auguri Martina, incredibile oggi è un giorno di festeggiare, quindi auguri ci vediamo presto happy birthday, no care, f 나가 Ciao Martina, noi ci conosciamo da tempo, però non posso farvi vedere, ti auguro i miei più sinceri auguri. Ciao. Ciao Martina, anche se noi non ci conosciamo, volevo mandarti i miei più sinceri auguri. Forza. Ciao Martina, tanti auguri per il tuo compleanno. Un abbraccio. I know in a few days it's going to be your birthday, so it's probably today, but I made the video a few days ago, so happy birthday, enjoy this day. I'm right here about practice at our college, so I hope we're going to have a great day, a great time, and I wish you your best. Un buon compleanno Martina. Tanti auguri Martina. Tanti auguri Martina. Tanti auguri Martina. Auguri Martina. Tanti auguri Martina. Tanti auguri, buon compleanno, sei squisita. Ciao Martina, auguri davvero di buon compleanno dalla plaga e dal dolce vita. Aguri Marti, buon compleanno. Martina, tanti tanti auguri e ci vediamo presto. Grazie. Tanti auguri a te. 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 Tanti auguri Martina da tutti noi. Guarda un po'. Guarda un po' anche. Ci sono gli auguri del prossimo anno. E qui ci sono i suoi regali. Ti volevo fare tanti auguri per i suoi 24 anni. Eh sì, vorrei che fossi. Sì, no. Happy birthday Marti, più 24. Sei una grande. Ciao Marti, tanti auguri per questi 24 anni, per questo raguardo tuo importante. Ti auguro altre mille sbronze come quelle di ieri. E tanti auguri, fatti portare da Andy da mangiare per bene fuori, non dallo scorso ronturone. Un abbraccio. Ciao. Eccoci. Arrivati alla fine del video. Auguri Marti. È finito questo video. Spero che ti sia piaciuto. Se ti è piaciuto metti like e condividi. E se vuoi fai pure swipe up per acquistare tutti i prodotti che facciamo noi. E niente, spero veramente che ti sia piaciuto. E come ogni buona riuscita mi faccio fumare una bella, 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 bella seccaretta. Ti pensa che questo sarà il terzo o il quarto video. Perché la seccaretta non è sempre la solita. E spero ti abbia fatto fare delle risate. Questo video ti abbia fatto commuovere. Ti abbia fatto piacere soprattutto. E spero che un pochino di tua autostima sia cresciuta. Perché hai visto quante persone ci tengono a te. Mi dispiace per il tono che ho rincognito e pensato abbia 24 anni. Ma quello li usiamo per il prossimo compleanno. Non c'è problema. E niente amore mio. Ti rifaccio un'altra volta gli auguri. Spero che tu possa vivere una giornata magnifica. Ma non solo oggi. Ma il resto di tutta la tua vita. E aggiustandomi il fiocchetto ti saluto. Ti mando un bacio. E si fa un tipto ancora. Da 5 ore. Ciao amore. Ti amo. Auguri. Il tuo è in dolino. Ah e con la presente ringrazio anche tutte le persone che mi hanno aiutato chiaramente a fare questo video. Vi chiedo scusa per avervi rotto il cazzo praticamente ogni giorno. E se non le vedrete vaffanculo. E se non le vedrete vaffanculo.